Fiera Agricola 2014, Verona. Buongiorno, siamo qui allo stand di Gowan assieme al direttore Dante Zauli. Ci racconta cosa ha fatto quest'anno Gowan di particolare, questo strano accordo di cui si parla assieme a Isagro? Questo non è tanto uno strano accordo, ma è un accordo strategico che è stato fatto ad ampio raggio, non solo per l'Italia ma per altre nazioni del mondo, in particolare per l'America. È un accordo di sinergia in quanto Gowan è una società presente sul mercato che ha la sua performance principale nello sviluppo dei prodotti, mentre Isagro ha la sua punto forte nella ricerca e produzione dei prodotti e non alla commercializzazione. Per cui questo, scuratemi il termine, incastra, non è altro che una perfetta sinergia fra realtà che hanno prerogative diverse e che sul mercato andranno in modo più compatto, più performante e sicuramente più interessante. Un accordo a livello mondo, ma scendiamo in Italia. Cosa cambierà in Italia a livello distributivo del marchio Isagro? Noi siamo sotto un certo profilo una delle lunghe mani dei prodotti di Isagro sul mercato, avendo una quota di partecipazione alla società e quindi tutti i prodotti di Isagro sono venuti nel nostro catalogo, sono venuti o verranno nel nostro catalogo, alcuni con i marchi tradizionali e originali, soprattutto le specialità che richiedono uno sviluppo, quindi un valore aggiunto nella presenza sul mercato, fra questi cito Domark, cito Fantic, cito Iron, cito Remedier, mentre altri prodotti sono venuti a noi con marchi diversi e nei quali abbiamo contemplato Isagro proprio per dare maggior peso a questo accordo, in quanto poi Isagro è direttamente la produttrice, quindi come si dice, da produttore a consumatore, quindi andiamo direttamente con il marchio Isagro sul mercato, quindi si chiameranno Cupro Isagro, Ram Isagro, Bordo Isagro, nel brand c'è Isagro. Molto bene, abbiamo parlato in particolare di agrofarmaci, ma Gowan è un'azienda che opera solo in campo agrofarmaci o fa altro? Noi facciamo anche altro, abbiamo un catalogo nutrito, importante, qualificato, abbiamo cercato, che si chiama Sharif, abbiamo cercato di rispolverare questo marchio sul mercato dedicandolo al settore della nutrizione vegetale, soprattutto ovviamente la nutrizione specializzata, quindi praticamente fogliare per micro carenze, eccetera. Non abbiamo i prodotti di macro elementi, ma stiamo parlando più di micro elementi, quindi stiamo anche qua organizzandoci con persone dedicate, quindi anche qui faremo uno sviluppo nel breve. Gowan in fiera, come sta andando? Qual è la vostra impressione di questi primi due giorni? Una discreta presenza, non mi sembra eccezionale, per essere sincero, una discreta presenza, un discreto interesse, qui in queste fiere non si vende nulla, si vende la visibilità, quindi questo è l'obiettivo che va bene e poi vediamo. In bocca al lupo per una buona campagna 2014 e grazie per la disponibilità. Ho bisogno, grazie a te, ciao. Grazie a te.